Comunicando, comunicando, intanto della vita io mi sto intamorando, comunicando, comunicando Assessore alle pari opportunità, mai come quest'anno, come oggi, pari opportunità assume un significato maggiore visti anche i tempi che corriamo. Quindi vorrei un suo commento sull'importanza di queste due parole in questi tempi. Sì, io devo ammettere che in realtà ho modificato la delega alle pari opportunità chiamandola diritti perché abbiamo provato a mettere insieme pari opportunità per tutte e per tutti, per uomini, per donne ma anche per tutte le categorie minoritarie che in qualche modo non riescono ad avere voce nella scena contemporanea e mi riferisco magari alle persone migranti, mi riferisco ai giovani, mi riferisco a tutte quelle serie di persone persone con disabilità, serie di persone che in qualche modo non riescono a diventare maggioritarie anche nell'espressione e nella narrazione del sé. In questo periodo storico, come si diceva prima molte di questi diritti in qualche maniera vengono, c'è un tentativo per negarli, per calpestarli io sono orgoglioso di far parte di una città che in qualche maniera ha una storia di città ha un progetto di città dove tutte e tutti vengono considerati e anzi si prova anche a ragionare in termini di intersezionalità, che è una parola che sembra difficile ma in realtà vuol dire vedere una persona a 360 gradi per tutte le opportunità, tutte le difficoltà e tutte le parti che in qualche maniera la compongono, quindi è un'azione molto importante che viene fatta innanzitutto all'interno dell'amministrazione perché prima di puntare il dito su qualcuno bisogna avere un po' la coscienza a posto, viene a dire e poi successivamente viene diffusa come cultura in tutta la città. Ok, il governo nazionale attualmente ha un ministro per la famiglia che ha, ovviamente conosciamo la sua storia determinate idee, Torino ha dimostrato di andare controcorrente ad esempio riconoscendo i figli delle coppie arcobaleno. Com'è possibile gestire questa contrapposizione a livello locale e a livello nazionale? Semplicemente non facendo nessun passo indietro, come ho già avuto modo di dichiarare, per noi la delega è alle famiglie io quando sono diventato assessore alle famiglie ho proprio modificato, so anche su accordo della sindaca Appendino questa delega, passando da delega alla famiglia nella famiglia e quest'anno inoltre abbiamo esposto in Piazza Vittorio per oltre un mese anche in occasione del Pride, una mostra su tutte le famiglie arcobaleno costruita con la rete eredia a livello nazionale, dove tutte le città ci hanno mandato la loro interpretazione di famiglia o di famiglie e le abbiamo esposte proprio nel salotto aulico della città proprio per dare un segno di direzione che questa città in qualche maniera continua a prendere. Ultima domanda, ieri il procuratore Spataro ha dichiarato tolleranza zero nei confronti dei reati con odio razziale. Quanto è importante estendere questa tolleranza zero anche invece alle discriminazioni di genere quando poi soprattutto costituiscono un reato? Ieri ho avuto modo di ringraziare il procuratore Spataro, l'ho anche dichiarato all'interno di una nota stampa che abbiamo inviato ai giornali, anche perché questo in qualche maniera si interfaccia con un'azione che avevamo già iniziato come amministrazione vincendo un progetto europeo che si chiama G3 Plus insieme ad altre associazioni del terzo settore proprio per mettere insieme tutte le polizie e quindi la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria proprio per costruire degli strumenti al contrasto alle discriminazioni soprattutto quelle basate sull'odio razziale ma anche per aprire degli spazi di riflessione su altre tematiche all'interno di questo contesto abbiamo visto che azioni ad esempio che erano state fatte negli anni passati di informazione e formazione agli agenti di polizia e i carabinieri sul contrasto alla violenza di genere in qualche maniera piano piano negli anni hanno conservato la propria efficacia ma in qualche modo hanno bisogno di essere un po' rispolverate e quindi il prossimo progetto della città che fa parte anche di un piano che stiamo per varare che in qualche modo mette insieme sia il piano nazionale sia il piano femminista presentato a non una di meno Torino è una delibera di programma che vedrà Torino libera dalla violenza di genere che avrà come una delle azioni fondamentali quella di formare tutte le operatrici e gli operatori che devono accogliere le donne vittime di violenza a partire da quei saperi che vengono costruiti all'interno dei centri di antiviolenza dalle donne che in qualche modo occupano quello spazio e lo rendono libero e in qualche modo ci danno anche un po' la direzione all'interno della quale costruire un progetto Grazie mille Assessore, buon lavoro Grazie a voi, buona serata Comunicando, comunicando